Al via lunedì 18, in prima serata su Rai 1, la fiction dal titolo Il Sistema. La serie televisiva, strutturata su sei puntate da due episodi ciascuna, vede protagonista la Guardia di Finanza e ripercorre le fasi di un'indagine a carattere internazionale in materia di usura e riciclaggio, svolta da un gruppo investigativo criminalità organizzata. I fatti narrati sottolineano le rinnovate linee strategiche dell'azione del corpo, finalizzate a rafforzare il contrasto ai fenomeni illeciti più gravi ed insidiosi, integrando al meglio le funzioni di polizia economico-finanziaria con le indagini di polizia giudiziaria. Nel contrasto al riciclaggio e all'usura, l'elemento fondamentale nella conduzione delle indagini è il monitoraggio dei flussi finanziari, dal momento che consente di seguire le tracce dei reati che generano profitti, individuando i responsabili e consentendo, per quel che concerne in particolare l'usura, l'immediato sostegno ai soggetti che si trovano in stato di bisogno. La peculiare attività di polizia economico e finanziaria della Guardia di Finanza assume quindi significativa rilevanza, soprattutto nell'ambito di cooperazioni internazionali di polizia con i collaterali organi esteri. Sullo schermo Claudio Gioè, Gabriella Pession, Valeria Bilello, Lino Guanciale e Antonio Gerardi, tra gli attori principali diretti dal regista Carmine Elia.